Dobbiamo dire che lei è il fondatore di questa scuola. Sì, sono il fondatore, siamo il mio fratello. Io preferisco usare il termine ideatore di quello che è il progetto Feed Walking, quindi l'attività di cammino di tipo vigoroso, di tipo sportivo e dinamico, che permette di far entrare un po' tutte le persone in quello che è il mondo dello sport, ma con un concetto non agonistico, quindi con un'idea che è molto rivolta anche al benessere, nel miglioramento della qualità di vita e degli stili di vita delle persone, pur rimanendo sempre comunque un'attività di fondo sportiva. Come è rimasto contento di questa iniziativa che c'è stata qui in Calabria, organizzata dalla Lille? Sì, credo che sia un'iniziativa molto importante in quello che è il filone legato al benessere, alla salute del mondo del cammino, quindi della proposta o del suggerimento alle persone di utilizzare il cammino come esercizio fisico nel campo della prevenzione per le malattie croniche non trasmissibili, tumorali, malattie metaboliche come il diabete, malattie cardiocircolatorie, quindi una prevenzione che sta un pochettino, come dico sempre io, nei piedi delle persone, perché camminare vuol dire usare i propri piedi, ma vuol dire anche mantenere in salute il proprio corpo. E anche la mente? Anche la mente perché gli aspetti psicofisici dell'esercizio fisico, dell'attività motoria sono particolarmente importanti e anche significativi nella loro evidenza rispetto alle persone che praticano, dove si acquisiscono e si guadagnano indubbiamente delle grandi vantaggi, dei grandi benefici dal punto di vista psicologico, mentale, che aiutano anche a vivere meglio la qualità della vita delle persone.